Allora, Maxine, il tuo agente dice che sei un nome molto popolare del cinema e dell'intrattenimento per adulti, è così? Sono curiosa, hai sempre voluto lavorare in quel settore? Ho sempre voluto essere famosa. Se hai bisogno di leggere la parte che ti abbiamo dato, fa pure. Le so le battute. Lei guarda la macchina da presa e attraverso il suo trauma si rivolge direttamente all'obiettivo. Dimmi cinque celebrità che hanno cominciato coi film horror. Jamie Lee Curtis, John Travolta, Demi Moore, Brooke Shields e... Maxine Spaccaculi Mills. Non mi piace stare qui con quel Night Stalker in giro. Il Night Stalker. Night Stalker. Night Stalker. Sta terrorizzando Los Angeles. Non so badare a me stessa. Come ha detto ogni ragazza morta a Hollywood. Maxine, sono l'investigatore privato assunto per trovarti. Il mio capo è un uomo molto potente. Il passato ha ancora conti in sospeso e continuerà a bussare alla tua porta. Un'altra tragica vittima del Night Stalker. Se conoscessi tre persone uccise in tre giorni, io avrei paura. Che cosa nascondi, Maxine? Se ti dico una cosa, mi garantisci riservatezza. Che hai fatto? È il ruolo chiave della tua carriera. Qualunque cosa della tua vita interferisca con questo film. Schiacciala. È quello che intendo fare. Maxine! 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 Sei una stella del cinema, cazzo. Maxine! 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 Maxine!